Dopo X Factor il successo per Lorenzo Fragola. Ma oggi la sua vita è completamente cambiata. Ecco cosa sta succedendo. Nel corso degli anni sono tanti gli artisti che con la partecipazione ad X Factor sono riusciti a ottenere un notevole successo. Con il talent si ha la possibilità di mostrarsi al pubblico e di poter entrare a tutti gli effetti nel mondo della musica italiana, ma anche in quello internazionale. Ecco perché Lorenzo Fragola ha partecipato proprio ad X Factor. Il giovane cantante catanese nel 2014 ha vinto l'edizione. Ma non finisce qui. Dopo la vittoria del talent Fragola ha preso parte anche al Festival di Sanremo nel 2015. Ma oggi la sua vita è completamente stravolta. Andiamo qui di seguito a vedere tutto sul cantante. Ecco cosa fa Lorenzo Fragola oggi. In arrivo un nuovo progetto. Lorenzo Fragola è un cantante di grande successo che come abbiamo appena detto è diventato famoso grazie alla partecipazione ad X Factor. Tuttavia negli ultimi anni il cantante ha rallentato la sua presenza nel mondo della musica italiana e non è più presente come prima. A dieci anni dalla sua vittoria, infatti, le cose sono cambiate e oggi molti si chiedono che fine abbia fatto. Per tanto tempo Lorenzo Fragola è stato l'idolo dei più giovani e ha cantato canzoni che hanno avuto un forte successo. Fragola è forse arrivato al successo troppo giovane e in poco tempo la sua carriera è schizzata alle stelle. Oggi però non è tutto finito e il cantante catanese si è raccontato in un'intervistata che ha rilasciato di recente a Il Messaggero. Qui Lorenzo Fragola ha confessato che grazie alla terapia è tornato ad amare la musica. Consiglio a chi è in difficoltà a prendersi i propri tempi di parlarne, dice il cantante. Per Fragola, che a 28 anni aveva visto tutto, la musica era diventata un nemico insormontabile. Ora è ritornato a fare musica e sta lavorando al suo ultimo disco con Sony così come da contratto. Poi vedrò cosa succederà, ha detto ancora Lorenzo che ora sta mettendo mano a un lavoro musicale molto forte in cui parlerà anche delle sue esperienze di vita. Lorenzo ha quindi iniziato questo nuovo progetto e al momento non è ancora nota la data in cui il disco vedrà la luce. Non ci resta quindi che attendere per poter ascoltare di nuovo la sua musica.